Ciao Monica! Stasera ho una serata importante, mi metto questo vestito qui, si, guarda, e se mi dai qualcosa, i trucchi, mi sistemi, una cosa preziosa per i capelli, e poi... Guarda, secondo me, il vetro valutarebbe di più tutto l'insieme, quindi in questo, così, un'altra cosa che ti consiglio è che mi piace il rossetto che non hai. Questo è un prodotto non poste, quindi per tutta la serata tu puoi parlare, e vedremo se ho proprio pazza, ok, buonissima, guardando un attimino il tocco finale, sta così, e andiamo. Un rossetto, un mascara, uno smalto, un profumo, un accessorio per capelli. I dettagli di Monica nei mercati di Martedì Castiglione di Ravenna, Mercoledì e Sabato Cesena, Giovedì Cervia, Venerdì Forlì. Grazie Monica! Grazie a tutti i dettagli di Monica, così stasera farò un figurone perché i dettagli fanno la differenza!